Un saluto a tutti, buona Pasqua, vi ricordo come sempre di lasciare un like qui sotto e di iscrivervi sul logo L per iscrivervi al nostro canale in cui parliamo di tutto. Un caro augurio, buona Pasqua, avete mangiato, io sono non pieno di più, un abbraccio, un caro augurio a tutte le vostre famiglie. Enorme, enorme follia, enorme cavolata, una cosa che non sta né in cielo né in terra. L'equip, che devo dire è a livello europeo uno dei principali quotidiani sportivi, se non il principale quotidiano sportivo, ha sparato oggi una notizia che è incredibile ma che secondo me non sta né in cielo né in terra. In tanti avete scritto che cosa ti risulta, ma non scherziamo, cosa succede? L'equip scrive che con l'avvento del fondo di Invest Corp nel Milan ci potrà essere un ritorno di Donna Rum al Milan la prossima estate. Paventa questa possibilità che sinceramente mi riporta al primo d'aprile. Ora, mi stupisce che lo scriva l'equip perché, ripeto, è sempre molto autorevole, è stato il primo quotidiano a livello mondiale ad aver anticipato la trattativa Invest Corp e Elliot per acquisizione della Cimina, anche come sappiamo è molto meno avviata. Dall'altra parte però, questa è una notizia che non riesco a capire, delle due l'una, o è una notizia messa in giro all'arte da Rai, ora è il mio primo pensiero, che già prova ad ammiccare ai soldi del fondo arabo che sta per acquisire il Milan, Oppure, oppure non credo che possa essere un pallino degli sceicchi Donna Rum, ma ecco, secondo me questa no, questa no, la prima ci può stare, dopodiché bisogna essere molto sinceri e onesti e in Milan in porta non è a posto di più a quello che è il portiere più forte di questo campionato, Mignan, che ha 500 oltre minuti di imbattibilità, che anche l'altro giorno ha fatto una paratona al minuto 94, che ha permesso a Mignan di chiudere un altro clean sheet, il settimo di fila, compresa la Coppa Italia. Non lo so se è un gioco di Raiola, non lo escludo, appena c'è la notizia subito gli avvolto e accostano questo o quell'altro giocatore, però su una cosa credo si debba essere certi nella vita, che il signor Gianluigi Donnarumma non tornerà mai e poi mai alla C-Milan, dovesse anche ipoteticamente cambiare la dirigenza, non credo, con una nuova proprietà non credo proprio che si possa fare un ritorno del genere, che non ha senso perché il Milan lì è stracoperto e perché i tifosi del Milan non lo vogliono vedere neanche dipinto, se non concedetemi la battuta, se non magari per fare il terzo, Mignan, Tatarusanu e Donnarumma, non più Antonio ma questa volta Gianluigi. Concedetemi la battuta finale, quindi mi sembra un'eresia enorme, una follia enorme, alla quale ho dedicato qualche minutino appunto perché se lo scrive l'equip e in tutto questo c'è qualcosa di strano, però escludo categoricamente che si possa verificare, mi sembra forse il primo tentativo di Raiola di accostare, mettiamo, facciamo capire, la buttiamo lì e vediamo, al Milan, Donnarumma non tornerà. Un saluto e alla prossima, buona Pasqua, ditemi le vostre impressioni qui sotto, ciao, iscrivetevi sul logo L.